Sono Viso, centrocampista, sono arrivato quest'anno qui all'Alessanger e sono veramente contento di essere qui perché l'entusiasmo da parte del Presidente, del Direttore e da quello che ho potuto sentire della piazza ha fatto sì che possa firmare subito. Sono veramente contento, non vedo l'ora di cominciare e forza crescita! Ciao a tutti, sono Dimo Riperti e anch'io sono arrivato quest'anno e ho sposato questo progetto per la voglia e le ambizioni che ha questa società speriamo di ottenere gli obiettivi che tutti abbiamo in mente, forza sempre grigi e speriamo di andare su tutti insieme!